bello andrei che dici? tutto bene? ti apposto? ma che ti vuoi comprare un telefonino andrei? un telefonino si fa pure vedere questo telefono allora andrei questo è impremiabile il telefono che vale vale c'è il centro e il negozio eppure hologrami questo telefono andrei non ci vuoi pure il telefono? come no ci vuoi fare tutto andrei? su internet ci vuoi? si tutto questo cosa vuoi fare? vuoi fare tutto questo andrei a fare andrei il gadget mi sembra interessante dovremmo valutarne l'acquisto è il padrone del cellulare o sarà già a cercare qua fuori questo te vanno a bevuto sarà certo da contrattare sul prezzo ma questo signore ha un aspetto molto affidabile hai giurato che non non ci avessi mai più avuto niente a che fa con l'arbanese